Benvenuti a una nuova puntata di Inset Technologies Magazine. Il nostro ospite di oggi è Roberto Ferrazzi. Ciao Roberto. Ciao Silvio, buongiorno a tutti. Roberto, tu sei il nostro esperto di Teams, Modern Workplace e non solo. Con te vogliamo riprendere un argomento che abbiamo trattato durante i nostri peri Teams legato a Microsoft 365 Copilot, finalmente sul mercato, in verità sul mercato già da un po' di tempo, ma con te oggi vogliamo capire intanto che cos'è, rifare velocemente una panoramica e poi quali sono le novità che sono state introdotte durante questi mesi dal lancio, però prima se puoi presentare e dire a tutti chi sei. Sì, buongiorno a tutti, io sono Roberto Ferrazzi, sono in Microsoft, sono Cloud Solution Architect e in Microsoft mi occupo di Modern Work, quindi un po' tutto quello che ruota attorno al tema appunto Modern Work. Oggi vi parlerò di Copilot, di M365 Copilot, quindi il Copilot dentro il mondo Modern Work, Microsoft 365. Tanto cominciamo col dire, per chi non lo sapesse ancora, che cos'è Copilot, perché probabilmente la gente è più affezionata al termine chat GPT, GPT piuttosto che AI, OpenAI, Copilot, magari non tutti quanti sanno che cos'è. Certo, allora cercherò di essere breve. Copilot, allora col nome di Copilot, diciamo Microsoft ha dato il nome all'intelligenza artificiale integrata nei propri prodotti. Copilot for Microsoft 365 è la componente di AI dentro il mondo Microsoft 365. Che cos'è? Sostanzialmente è un modello sofisticato che utilizza i large language model, quindi gli LLM, quelli che utilizza anche chat GPT, però il grande vantaggio di M365 Copilot è che è integrato non solo con i large language model, ma anche attraverso Microsoft Graph con i dati, i vostri dati, quindi i dati che stanno sul vostro tenant. integrati nelle applicazioni M365 e con la possibilità appunto di essere integrati e anche quindi di aggiungere informazioni che arrivano anche dal web. Che cos'è? Allora, vi ho riportato in questa slide un recente annuncio legato al tema delle licenze. Come diceva prima Silvio, Copilot è stato lanciato in General Revalability da diversi mesi, però fino alla settimana scorsa aveva un vincolo non da poco che richiedeva un minimo di acquisto di 300 licenze che a 30 euro, 30 dollari circa a utente mese per 300 richiedeva un investimento importante come ingresso, come punto di ingresso. Diciamo, è stato abbattuto questo limite per cui abbiamo aperto la possibilità quindi di accedere a Copilot anche, quindi senza questo vincolo. Certo. Secondo me è una grande notizia. È una grandissima notizia anche perché dà la possibilità intanto a chiunque di poterne fruire e poi anche il mercato SMB di poterlo dare in modo mirato, nel senso che poi ce lo mostrerai. È una tecnologia che è sicuramente utile, ma magari è una tecnologia che non è per tutti, vuoi anche per il costo e che va valorizzata, nel senso che... Assolutamente. Perché il rischio è quello poi di dare qualcosa di veramente potente in mano a qualcuno che non lo utilizza, non lo sa utilizzare, che magari è ancora peggio. No, con Copilot come non mai è importante il caso d'uso, come tutti i prodotti, ma Copilot effettivamente non esiste il modo universale di applicarlo e di utilizzarlo. Ognuno ovviamente ne può fare un uso specifico. Ve lo faccio vedere in azione. Così... Perché è la cosa più bella in assoluto. Esatto. Allora, partiamo dal... Intanto diciamo che Copilot non si installa. Copilot... Si compra come licenze e automaticamente si sblocca nei prodotti Microsoft come Microsoft 365, come Teams, come Outlook nuovo, perché bisogna usare l'Outlook nuovo, quello vecchio, per chi se lo fosse perso è in lenta fase di deprecazione. Vabbè, il prodotto magari sì, poi magari il supporto no. Non del tutto, nel senso che c'è un annuncio recente che supporteremo, rilasceremo il supporto per Copilot anche sul classic Outlook. Quindi... Però intanto la croce sopra li hanno già messi da un po' di tempo. Però è chiaro che il prodotto nuovo è quello su cui verranno e investiremo. Però il concetto è che una volta acquistata la licenza, passa qualche ora al netto della configurazione, poi vi ritrovate... Adesso tu lo stai mostrando dentro PowerPoint, nel lato destro c'è un pulsante Copilot che si sblocca un po' in tutti i prodotti. Esatto, quindi troveremo esatto all'interno dei vari prodotti. Ci sono dei requisiti, adesso dovremo fare una sessione solo sulla parte di requisiti. Ovviamente le applicazioni Office devono essere aggiornate e seguire un canale di update abbastanza frequente. Frequente, certo, certo. Allora iniziamo Copilot, il primo Copilot ve lo faccio vedere dentro Outlook. Quindi dentro Outlook io ho appunto la possibilità di ottenere una serie di funzionalità erogate appunto dall'intelligenza artificiale e vediamo quali. La prima fra tutte è il summary by Copilot. Io quindi posso avere un thread di email, in questo caso vedete questo è un thread molto lungo dove immaginate di essere stati via dei giorni, siete tornati e avete trovato un po' di mail, ve le dovete andare a rileggere, a riprendere le fila. Voi potete selezionare il thread e vedete, avete un pulsante summary by Copilot che vi genera un recap intelligente di tutto il vostro, di tutto il summary di questo thread. Sì, ovviamente deve elaborare, che poi varia dalla lunghezza della discussione. Ok, in questo caso mi dice che ho comunicato con Andrea per l'organizzazione di un evento e mi dà il contesto appunto, ora è un recato sintetico e poi diciamo sapendo di che cosa si parla io posso andare ad approfondire andando a vedere le singole mail, però è sicuramente un buon punto d'inizio. Un altro degli skill interessanti di Copilot, ad esempio in questo caso io ho letto il mio thread di mail e magari lo voglio forwardare a Silvio. Ok? E spesso che cosa accade? Si forwarda l'email for your information, chi lo riceve si trova queste tre letterine che lo costringono a scorrersi tutto il thread per capire di che cosa stiamo parlando. In questo caso, ad esempio con draft with Copilot, io posso sì dire for your information, però in questo caso Copilot mi genera un draft di un for your information un po' più contestualizzato al thread che io sto inoltrando a Silvio. Allora, come in questo caso vedete Copilot me ne propone una prima versione sintetica, però io posso ad esempio rigenerarlo. Cioè l'ha messo in maiuscolo nella prima versione che è molto... Vabbè, questo... Comunque l'ha messo perché se non acronimo era giusto che stessi in maiuscolo. Che stessi in maiuscolo. Vedete, in questo caso lui mi dice, mi dà un minimo di contesto sulla mail che io posso tenere o rigenerare, oppure vedete io ho un prompt con cui posso reiterare la mia richiesta. Ad esempio io potrei anche dirgli riscrivilo in italiano. Adesso ho cliccato, lui mi sta generando. Ok, vedete? Non so se avete notato, ma io ho il client outlook in inglese, Copilot mi sta rispondendo in inglese perché è la lingua del mio client, ma io posso mandargli prompt anche nella mia lingua. Ma questa è la cosa, secondo me, fantastica dell'AI e di Copilot. Vedete, quindi ho chiesto appunto di rigenerarla in italiano e lui me l'ha fatto. A questo punto posso mandare o decidere che non mi interessa. Un'altra funzione di Copilot, sempre il draft with Copilot, quindi io posso sempre in Copilot dargli un prompt, quindi richiedergli di generare una mail andando a specificare anche qui il tono con cui voglio che venga generata la mail, il contenuto e anche la lunghezza. Lo voglio breve, lo voglio medio, lo voglio lungo. Posso quindi confezionarmi il risultato come meglio credo. Mi piace a me la funzionalità in cui dice rendilo un po' ema. Qui ti faccio vedere anche una cosa che arriverà a breve, che è il sound like me. Questa è una delle funzioni che abbiamo annunciato e arriverà nel calendario, in questo metà dell'anno, che sostanzialmente cercherà di capire qual è il mio tono specifico. Quindi cercherà di scrivere una mail non diretto, non casual, non formal, ma cercando di assomigliare il più possibile al tono che io uso in maniera naturale. Certo. Quindi attenzione a quello che scrivete. Questa cosa mi preoccupa molto. Ok, quindi questi sono gli skill che abbiamo a disposizione in Outlook. L'ultimo skill che vi faccio vedere in Outlook è il coach by Copilot. Quindi io ho una mail, in questo caso, che ho scritto di mio pugno. Questa è una funzione che a me piace molto. Io uso molto quando scrivo in inglese. L'inglese non è la mia lingua nativa. Magari quando scrivo a colleghi o anche a manager, magari personaggi importanti. Non mi capita spesso, però a volte capita. E' importante quindi andare a cogliere magari alcune sfumature della lingua che io non sono proprie. Quindi avere un coach che mi aiuta è sicuramente utile. Quindi io ho scritto la mia mail, vado a selezionare Copilot e gli chiedo di fare il coaching. Copilot analizza la mia mail e mi darà dei suggerimenti su come ho scritto e su come eventualmente andare a correggere. E questa è una cosa secondo me molto utile. Questa, ripeto, io la trovo molto utile. Potresti essere un po' più entusiasta al tono della mail, gentile, eccetera. Vedete, quindi potrei ascoltare oppure tenere. Sì, certo, però come detto, magari quando si utilizza una lingua non nostra potrebbe essere un aiuto in quelle micro sfaccettature perché noi molte volte magari italianizziamo dei termini che in formato inglese sono un po' meno usuali. e perciò anche un supporto può darci una mano. Evitarci figurarci. Altro Copilot in Word, ad esempio, che possiamo utilizzare per generare dei contenuti o, vedete, potete utilizzare sotto forma di chat per analizzare un documento. Quindi banalmente, non lo faccio però, diciamo la funzionalità che siamo abituati a usare tutti con chat GPT, creami un documento sulle regole del basket. E Copilot andrà a prendere dagli LLM, l'acknowledge, creerà il mio documento. Una cosa interessante che vi voglio far vedere è la capacità di Copilot di analizzare un documento. Quindi io potrei andare ad aprire un documento esistente. Questo per esempio è un documento tecnico lungo un tot di pagine, sette pagine, che contiene delle informazioni, delle specifiche tecniche su una e-bike, su una bicicletta. Immaginate un contratto complesso e lungo. Una delle funzionalità, secondo me, molto utili di Copilot è la possibilità di analizzare i documenti. Quindi io qui potrei fare delle domande a Copilot. Per esempio, gli posso dire quanto pesa la e-bike. Su questo faccio proprio un appunto, l'abbiamo già detto in precedenza, lo ridiremo sempre quando si parla di Copilot di intelligenza artificiale, il prompt. Nel senso, tu hai scritto i bike, non hai scritto bici, perché se non viene fatta un'associazione magari iniziale che fa capire poi all'intelligenza artificiale che l'e-bike è una bici, lui potrebbe non capire correttamente la domanda e quindi non dare il valore perché l'e-bike, in questo caso, ok, è una bici, ma se in verità fosse un motorino che si chiama e-bike e io lo chiamo bici, ecco che il risultato del mio prompt sarebbe assolutamente sbagliato. Quindi come faccio le domande è fondamentale. È fondamentale. Io quello che dico sempre è fate uno sforzo, immaginate di avere davanti una persona, o meglio, provate a mettervi nei panni di chi vi fa la domanda che state per fare voi. Fate finta di ascoltarla e quindi capite se qualcuno vi fa questa domanda come rispondereste. Copilot si comporta esattamente nello stesso modo. Se cito una parola che io non conosco... Di solito si usa coso. Coso. Quindi questo sicuramente è fondamentale. Il prompt, c'è una disciplina che chiamiamo prompt engineering, che descrive effettivamente come costruire i prompt per ottenere i risultati che vogliamo. Quindi noi adesso abbiamo fatto la nostra domanda all'interno di Copilot, del documento Word e lui ci ha restituito un primo risultato. La cosa bella è che io posso continuare il dialogo. Sì, sì, esatto. Vedete che oltre a scrivere i prompt direttamente, Copilot mi suggerisce anche dei prompt che hanno un contesto specifico sull'argomento che stiamo analizzando e su quello che ho già chiesto. Io prima gli ho chiesto quanto pesava, mi suggerisce per esempio qual è la velocità massima. Quindi io posso cliccare i vari prompt già pronti a ottenere un contesto. Quindi, interrogazione discorsiva di quello che è il documento o il file che sto aprendo, poi vale per Word, Excel, PowerPoint. Ma l'altra cosa che stavi mostrando è parto da zero e gli faccio fare... Allora, questo ve lo faccio vedere che è un po' più... Lo vediamo sotto. Un po' più bello, lo vediamo in PowerPoint. Ripeto, vedere un documento che si autogenera... Però lo può fare nel senso che in Word gli possiamo dire analizza un PowerPoint e magari un PowerPoint di tante slide ce le tira fuori in Word di una singola pagina. Esatto. Una delle capacità di Copilot è anche la capacità di riassumere del testo e di usare i riferimenti a un documento per produrne un altro. Questo è il caso che mi piace un po' di più far vedere, quindi anche qui in PowerPoint io potrei usare Copilot e chiedergli di creare una presentazione. Questa volta potrei non specificare niente. Lui mi crea una presentazione sull'argomento che ho scelto io andando a prendere l'acknowledge dagli LLM. Oppure lì potrei dire crea una presentazione utilizzando come sorgente per esempio il documento di specifiche Word che abbiamo visto prima. Certo. Vedete anche qui posso digitare il prompt oppure posso andare direttamente a utilizzare uno dei prompt preparati. E chiaramente come funziona poi per OpenAI o qualsiasi sistema di intelligenza artificiale, se così vogliamo chiamarla, è fornire più informazioni possibili, nel senso che se voglio usare un certo tipo di grafico, un certo tipo di stile, un certo tipo di sfondo, glielo devo dire. Cioè glielo devo dire, lo sfondo deve essere, base blu, i colori predominanti devono essere questi. Cioè lo devo aiutare perché il risultato finale sia migliore. In generale sì, io devo essere molto più specifico nella costruzione del prompt oppure posso reiterare. Una delle cose belle è quella, quindi è una conversazione che faccio con un po' Copilot, quindi gli do un prompt, mi dà un risultato, voglio raffinare quel risultato, posso continuare la conversazione senza dover ripetere il prompt. Ah no, certo, certo. Quindi questo è un altro dei vantaggi. Ecco, in questo caso Copilot è andato, quindi gli ho dato come riferimento il documento Word. da di prima e lui mi dice che sta preparando la presentazione andando a prendere queste informazioni. La cosa bella, una delle cose belle appunto di Copilot in PowerPoint, ok, vedete che mi ha creato una presentazione molto basic, però diciamo io qua poi posso usare questo draft per costruirci qualcosa di più, anche semplicemente utilizzando Designer, che non è una funzionalità di Copilot, ma di PowerPoint per migliorare l'aspetto delle mie slide. La presentazione è pronta e preparata, corredata anche di speaker notes, ok, quindi per chi deve presentare questa slide, si trova già le note pronte per fare la presentazione. Perché ovviamente nella slide vengono riportate le informazioni più importanti. Esatto. Nelle note invece tutto il dettaglio che riguarda quella specifica area. Ora concludo questa parte su PowerPoint con un esempio che a me piace tantissimo. Immaginate che questa presentazione la dobbiate presentare al vostro manager, perché dovete preparare appunto il lancio di questa e-bike. Voi potete chiedere a Copilot questo, se presentassi queste slide al mio manager, che domande potrebbe farmi? Per cui Copilot analizza il documento e ci tirerà fuori una lista di possibili domande, ma attenzione, io ho chiesto di avere le domande che mi potrebbe fare il mio manager, perché un altro degli skill di Copilot è la capacità di impersonare. Quindi io potrei chiedergli delle informazioni, fargli delle domande, e chiedergli, darmi delle risposte da un punto di vista di un certo tipo di figura. In questo caso lui mi dirà, vedete, in questo caso mi dà delle possibili domande che potrebbe farmi un manager. Se io gli avessi chiesto, se presentassi questa e-bike a uno sportivo, che domande potrebbe farmi? Ovviamente le domande sarebbero diverse. Assolutamente. Diciamo che adesso se lo mettiamo in magari una chiave simile, potrebbe essere un potenziale investitore, che tipo di domande mi farebbe? Chiaramente non va preso alla lettera tutto quello che propone, però è un punto di partenza per essere pronti, nel senso che quando si va a presentare qualcosa a un superiore, di solito se ne esce con le domande più disparate. Quindi essere aiutato... Sicuramente non guasta. Esatto. Ultimo componente che vi faccio vedere della Famiglia Office, dove abbiamo appunto la possibilità di utilizzare Copilot, Excel. Excel in questo momento siamo ancora in preview, andremo in generale availability dal prossimo mese, e in questo momento supporta i prompt solamente in lingua inglese. Ok. Quindi dobbiamo interagire in lingua inglese. Che cosa possiamo fare? Allora, per esempio, questo è un documento Excel che mi riassume, per esempio, una campagna, che mi riassume le mie e-bike, i modelli, il costo di produzione, il costo di vendita, eccetera. Per esempio, io vorrei una colonna che mi faccia vedere il margine di profitto, quindi sulla vendita delle mie e-bike. La cosa bella appunto è che con Excel qui il linguaggio naturale per un pessimo utente come me è veramente la svolta. Io Excel so, veramente so fare più o meno per diviso, operazioni complesse faccio veramente fatica. Ma in questo caso interagiamo con il linguaggio naturale. Per esempio, io nel prompt gli vado a dire aggiungi una colonna che mi faccia vedere il margine di profitto, semplicemente senza dover pormi il problema di formule e calcoli. Chiaramente, anche qui poi, come chiamo le colonne è fondamentale, perché se le chiamo A, B e C... Ovviamente, e uno dei requisiti è che il documento debba essere formattato come tabella. Come tabella, certo, perché... Certo, certo. Perché Copilot ha bisogno di riferimenti delle colonne. Assolutamente. Perché magari qualcuno non lo sa, ma... Da un po' di tempo la formattazione come tabella per il pubblico usa ancora D2, A1, però poi in verità dietro chiama il nome del foglio con tutta una serie di link molto più avanzati e per quello che è più facile banalmente oggi linkare due file Excel o cose più disgregate rispetto al passato. Ecco. Quindi, questo è una delle cose che a me piacciono tantissimo è che Copilot ti spiega anche il ragionamento che c'è dietro, ti fa vedere la colonna che aggiungerebbe e ti fa vedere la formula che sta dietro quella colonna. E se vuoi te la spiega anche. Quindi ti dice, per calcolare il margine di profitto, bla bla bla, ti spiega il ragionamento che c'è dietro. Insert column e io ce l'ho. Certo. Ok. Poi ne possiamo fare 10.000 perché gli posso dire filtrami soltanto i valori con colora i campi che superano un certo percentuale. La svolta è, per esempio, i campi, il campo che contiene dei nome, cognome e un delimitatore. Tu gli dici, separami il nome dal cognome, togli il delimitatore. Pensate a cosa avresti dovuto fare per ottenere lo stesso risultato. È impressionante. O il concatena per attaccare i valori. Sì, sì. Sì, da questo punto di vista sicuramente è un gran fattore oltre a quello che abbiamo detto prima, che puoi fargli fare tante cose. In Outlook abbiamo delle novità. Concludiamo con una carrellata appunto sulle novità che arriveranno. In Outlook arriverà funzionalità di Copilot per il time management, quindi la possibilità di schedulare i meeting, quindi dimmi, schedulami un meeting con Silvio la settimana prossima in uno slot libero. Ok? Quindi in un prompt io ho la possibilità di andare a, per esempio, vedere la disponibilità di un utente a schedulare un meeting. Oppure preparare un meeting, preparare un meeting, quindi io devo schedulare un meeting e prepararlo, l'intelligenza artificiale mi aiuta appunto facendo un recap delle informazioni a preparare il mio meeting. Ok? Quindi questa parte l'abbiamo già vista, quindi la parte di summary. Una cosa interessante che rilasceremo a breve è il follow meeting, quindi una funzionalità che mi permetterà quando io ricevo un invito a un meeting posso magari non accettarlo e dire a Copilot di seguirlo lui per me. Succederà che io il meeting magari non lo seguo perché si sovrappone con un altro. Quando il meeting è terminato, Copilot mi avvisa e mi manda il recap del meeting con tutte le informazioni. Questa è una cosa che non dovevi dire. Questo ci risparmierà tanto tempo e ci eviterà di partecipare a tanti meeting. Quindi ne metteranno sempre di più per fare in modo che l'intelligenza artificiale li segua per lui. Però diciamo, li seguirà Copilot per te. Pensa se lo fanno tutti, quindi il meeting tra Copilot. Magari ne viene fuori qualcosa di buono. Infatti. Ok, quindi per la parte di time management, per la parte di email, queste tre funzionalità sono quelle che vi ho mostrato io prima live, per cui le schippiamo. In Teams, anche qui ovviamente non ve l'ho fatto vedere perché servirebbe una giornata solo. Però spieghiamo una cosa importante. Teams è l'unico prodotto che può mettere le mani o le zampe in tutti i prodotti di Microsoft. Nel senso che se io voglio cercare una mail, una conversazione, lo posso fare in Teams. Se voglio cercare un documento, lo faccio in Teams. Chiaramente tutto quello che riguarda chat, meeting, sa va san dir. Però posso fare degli incroci da Teams in un modo molto più avanzato rispetto ai singoli, alle singole soluzioni. Esatto, esatto. Quindi il co-pilot nelle singole applicazioni abbiamo visto gli skill specifici dell'applicazione. In Teams abbiamo la funzionalità all'interno dei Teams meeting. Quindi all'interno di un meeting io avrò co-pilot che mi permetterà di avere, di interagire appunto con quello che accade nel meeting. Quindi io potrei chiedere, magari accedo al meeting con un ritardo, posso chiedere a co-pilot di riassumere il meeting fino a quel momento. Oppure posso chiedere, per esempio, quali sono le domande a cui non abbiamo ancora risposto. Quindi posso interagire con il contenuto del meeting. anche qui co-pilot in questo caso utilizza le funzionalità di transcription perché diciamo l'intelligenza artificiale generativa che usa co-pilot usa il testo per generare i contenuti e per interagire. È stata rilasciata anche la funzionalità che supporta i meeting anche senza la trascrizione. Questo era del, diciamo, con i clienti. Perché è andata attivata, se non mi sbaglio, questa cosa. L'attivava co-pilot, però ci sono delle aziende che per motivi di compliance non possono utilizzare la funzionalità di trascrizione. In questo caso c'è una trascrizione, diciamo, temporanea, non accessibile all'utente ma accessibile solo a co-pilot durante il meeting. Terminato il meeting viene resettato il tutto. Ok. L'intelligent RECAP quindi al termine del meeting co-pilot ci riassume il contenuto del meeting in maniera intelligente con tutte le informazioni. In Teams Phone quindi anche durante una call verso un telefono o verso un altro utente Teams abbiamo la possibilità di usare co-pilot quindi di fargli domande e ottenere delle informazioni. Nei canali, ovviamente anche qui nelle chat di canale avremo co-pilot come assistente nella chat o che ci permetterà appunto di riassumere per esempio i messaggi di una chat dell'ultima settimana dell'ultimo giorno in base alla nostra richiesta e volevo arrivare sull'ultima parte nella whiteboard ok e nella M365 chat che come citavi tu è sostanzialmente una chat che abbiamo all'interno di Teams ma possiamo accedere anche attraverso il browser in modalità web ma sostanzialmente è una modalità che ci permette di interagire con tutte le applicazioni cross Office 365 quindi a differenza delle singole applicazioni che hanno degli skill specifici per quell'applicazione per esempio con la chat noi possiamo fare domande su tutto il mondo Microsoft 365 possiamo chiedergli per esempio dimmi quali sono gli ultimi file che ho modificato oppure dimmi quali sono le ultime informazioni che ho ricevuto da Silvio e lui mi tirerà fuori le mail le chat e i documenti quindi è un modo molto potente per interagire con tutto il nostro ambiente e tra l'altro lavorando con Graph API in uno scenario ovviamente più complesso io potrei chiedere informazioni di una certa persona della mia organizzazione sapere dove è dislocato chiaramente se ho compilato il database di Entradio di Active Directory però non è solamente analisi documentale ma posso fare un po' di discovery completa di alcune zone tipo dirmi a che reparto fa parte questa persona sì ma questo reparto che è di chi da quante figure è composta e quindi avere anche una visione più dettagliata di quello che è la mia un esempio potrebbe essere dimmi le mail che ho ricevuto dal mio team nell'ultima settimana copilot attraverso le informazioni compilate nei giorni in grado di ricavare chi sono i membri del mio team ammesso appunto che sia compilato e posso usare quell'informazione per esempio dimmi qual è l'ultima mail che ho ricevuto dal mio manager copilot sa chi è il mio manager se è impostato assolutamente esatto estensibilità quindi oltre a quello che fa copilot di suo attraverso appunto l'ambiente M265 abbiamo la possibilità di creare dei plug-in e andare a integrare gli skill andando a interagire con oggetti terzi e tra l'altro ricordiamo una cosa importante che copilot l'hai fatto vedere tu prima va sul web quindi io gli posso dire prendi questo link fammi il summary preparami un documento magari basandomi basandoti su questo articolo di questo sito web oppure se stai cercando delle informazioni vale a reperire qui insomma non è solo una ricerca intra-tenant e soprattutto ricordiamo che i large language model sono stati pre-trainati fino ad un certo momento fino al 2022 quindi se io chiedo cose a copilot oltre quella data non le conosce perché utilizzando i plug-in che mi permettono appunto di andare verso il web ho la possibilità appunto di integrare i contenuti anche con quello che arriva dal web sempre avendo ben chiaro da dove arrivano i contenuti copilot ogni volta che io chiedo qualche cosa mi genera dei contenuti me li referenzia in modo tale che io sappia se i quei contenuti arrivano dall'acknowledge degli LLM dal mio ambiente graph o dal web in maniera molto chiara e come solito sta a me poi andare a verificare che le informazioni che sono state generate siano valutare se appunto sono sono ottimali per me o no ottimo come sempre le informazioni legate alle novità di copilot sono disponibili sui vari blog tecnici di Microsoft ma potete anche seguire otec in site technologies il buon Roberto che ogni giorno che ce n'è una fa sicuramente ricondivisione nei suoi canali social grazie mille Roberto grazie a te grazie a tutti arrivederci appuntamento al prossimo video ciao ciao